Salve a tutti ragazzi qui TTD, ben ritrovati sul mio canale, siamo qua per parlare delle scan V-Jump appena uscite sul quarto anniversario di Dokkan Battle versione Jump ragazzi Comunque ragazzi qua abbiamo finalmente le scan, andiamolo a vedere assieme, partiamo con la prima scan che ci mostra questo bellissimo Goku Super Saiyan 4 con la sfera del drago in mano Sarà un Goku Super Saiyan 4 da login, come negli scorsi anni avevamo Goku Super Saiyan 3 Int che era da login anche quello Stessa cosa per questo Goku Super Saiyan 4, niente di pull, è un PG gratuito che ci verrà dato insieme al login E in più, insieme al login con quei Goku, ci saranno anche la nuova stone rossa finalmente e in più 4 stone al giorno per tutta la durata dell'anniversario Cosa buonissima, veramente buona, 4 stone al giorno per tutto l'anniversario, veramente buono Contando all'incirca probabilmente 30 giorni di login, sono tante stone, o 20, facciamo così 20 stone di login, sono tante stone ragazzi Tante stone 4 al giorno, sono veramente tante In più abbiamo anche il ritorno dei coin, delle monetine dell'anniversario, questa volta del quarto anniversario Poi ci sono anche altre cose, però per ora non sono ancora state dette Passiamo alla prossima scam perché fa un po' ridere, nel senso Ah, a parte quello, non c'è nessuna info al momento di coloro che riguarda PG pullabili Nessuna info Gogetta 4LR per ora è una gran cavolata, quindi calma con quelle cose Calma e sangue freddo Prendiamo quello che ci hanno mostrato, ok? Niente speculazioni time, non troppo Passiamo comunque all'altra scan Ciao pan, è bellissima pan B-Pan-LR Tutti volevano B-Pan-LR, credo Vabbè, lasciando perdere le cavolate su B-Pan-LR Non c'è scritto da nessuna parte se c'è un nuovo stage dell'evento 100 stamina, eccetera Quello per l'exp di B-Pan Non c'è scritto da nessuna parte Però, qua si va nelle speculazioni Probabilmente mettono un nuovo event con Come hanno fatto poi comunque con la B-Pan-A-Tour Che tramite le missioni si potevano prendere le medagliette Però bisogna vedere esattamente Per ora non ci sono info Non ci sono info, è semplicemente Arriva B-Pan-LR Yeah! Ok, grazie mille Dokkan Dall'altra parte invece abbiamo Goku Jr Ciao Goku Jr PG ormai vecchio Ha più di due anni di gioco O comunque due anni di gioco È inutile PG inutile veramente Che però riceve un Extreme Z Awakening Goku Jr che riceve un Extreme Z Awakening Speriamo in qualcosa di bene Per questo In qualcosa di buono Per questo Goku Jr Perché Ad oggi è Uno dei PG free to play più inutili Anche perché non ha spazio Non ha niente Almeno che sia alla pari Del nuovo Goku e Vegeta free to play Che Se non si ha niente Sono PG abbastanza carini Che almeno si possono giocare Questo Goku Jr Attualmente non ha utilizzi Non ha utilizzi E quello è il suo più grande problema E infine abbiamo Come numero 4 Un evento di Giru Il robottino di GT Che Ora non si capisce esattamente bene Quindi Prendo per com'è tradotto Dedicato All'ability All'ability system Ok E Per Aprire il full potential Quindi il full ability Quindi potrebbe essere una roba che Si fa 100% Giru Vabbè Ora Per ora non si sa ragazzi È anche scritto letteralmente male È stato tradotto un po' male Però da quello che sembra È che Si può fare Una carta free to play 100% full ability Con le sue orb Specifiche Quindi Piccolo Gohan STR Quelle cose lì ragazzi Ci sta Ok Grazie mille Comunque queste sono le immagini Per ora ripeto Ancora niente info Su PG pullabili Non si sa nient'altro Oltre che È a tema GT Però Come è successo l'anno scorso Che era tutto un anniversario Tema Namek Saga I PG banner poi non lo sono stati proprio Cioè si c'erano il Goku e il Vegeta Quelle robe lì Ok Però Erano Goku e Vegeta LR In versione Vegito e Gogeta Quelle real dual Non c'entrava niente con Namek Saga Potrebbe essere la stessa mossa Potrebbe essere la stessa identica mossa Cioè Prendere e fare tutto su GT E poi mettere due PG a random Per fare l'anniversario Quindi per ora Non si sa ancora niente Sappiamo almeno tutte le robe Che riguardano I PG free to play L'LR di Pan L'Eza Di Goku Junior E il Goku Free Queste sono tutte le news Del V-Jump ragazzi Delle scan V-Jump Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Fatemelo vedere Lasciate tanti bei mi piace E commentate ragazzi Ditemi la vostra Su queste prime news Del quarto anniversario Detto questo Come sempre vi ricordo Che potete seguirmi Sulla pagina Facebook E sul profilo Instagram Tutti i link sono sotto In descrizione Ragazzi Se vi servono delle stomper Dragon Ball Z Da Khan Battle Versione già controllate Il link in descrizione Al gruppo Facebook E infine Vi ricordo che sono in live Quasi ogni sera Alle 21 Sul canale Twitch Ragazzi Andate a mettere il follow Link in descrizione Vi aspetto Detto questo Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti